Ancora uno spreco della ASL di Pescara, denunciarlo Domenico Pettinari, che torna a parlare dell'affitto del macchinario PET. Milioni di euro di soldi pubblici buttati al vento taglia corto il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Sono anni che segnalo questo assurdo spreco, qualcuno dovrà pagare per gli errori commessi a detto. Sì, dal 2007 la ASL di Pescara e quindi la collettività abruzzese sta pagando un affitto per l'apparecchiatura PET che serve per la diagnostica oncologica di 5.000 euro al giorno. Avete sentito bene? 5.000 euro al giorno in 10 anni, 11 anni si è pagato oltre 10 milioni di euro di affitto per un'apparecchiatura che costa soli un milione e mezzo di euro. Quindi avremmo acquistato oltre 10 apparecchiature. Non solo, a seguito delle nostre denunce, perché io non mi sono limitato a fare chiacchiere da bar come fanno tanti altri, ma ho subito prontamente esposto alla magistratura inquirente questo problema, ho portato il caso in consiglio regionale, ho fatto interrogazioni e interpellanze e si è fatto un bando per l'aggiudicazione e la fornitura dell'apparecchiatura nel 2016. Nonostante l'aggiudicazione della fornitura dell'apparecchiatura, si è continuato a prorogare i contratti d'affitto. Quindi qualcosa di veramente allucinante ed eclatante. Io voglio che chi sbaglia paghi, con noi sicuramente chi sbaglia pagherà. Quindi abbiamo nuovamente riproposto adesso un esposto alla magistratura inquirente e l'abbiamo inviato per conoscenza anche al Ministero della Salute. Non solo, al danno la beffa, perché i cittadini, i pazienti, gli utenti che devono sottoporre a questa terapia vengono iniettati di un radiofarmaco, quindi una sostanza anche abbastanza invasiva, poi sono costretti ad uscire dall'ospedale fuori, perché questa apparecchiatura è mobile e si trova all'esterno, salire sopra un semirimorchio di un camion, perché sta all'interno di un semirimorchio di un camion, e sottoporsi a terapia. Mentre con l'acquisto dell'apparecchiatura si potrebbe fare tutto dentro a un reparto dedicato. C'è il reparto dedicato, la medicina nucleare, si deve solamente mettere a norma e installare l'apparecchiatura. Basta. Fortunatamente, io dico, mi si consente il termico, e oggi anche un capo dipartimento ci dà ragione segnalando queste cose. Grazie. Grazie.